Anno 1980. Nelle città satellite, dove le rovine coesistono con la civiltà, gli umani dominano i cyborg, programmando la loro esistenza. In nome della vita eterna, i cyborg si rivedano. Comincia la rivolta. Finisce l'era di Blade Runner. Inizia il mito di Majoral City. C'è un ritmo di 42 anni. Sì, non è un ritmo di grande l'exercito. Un ritmo di CTP? Un ritmo di CTP.